Io ho parlato già con la società del Verona e come sempre si sono mostrati dei signori dall'inizio alla fine. Credo che tra oggi e domani firmerò un preliminare di contratto che intanto mi vincola a questa società per un eventuale mio proscioglimento. Così posso partecipare a questa cavalcata verso la Serie A e dare una mano a livello di campo. Se poi le cose dovessero andare male ringrazierò il Verona per quello che ha fatto, i tifosi del Verona per la vicinanza che hanno avuto nei miei confronti e dalla mia famiglia. A questo punto saluterò il calcio perché a 33 anni se dovessero confermarmi la condanna di tre anni è inutile che continuiamo a raccontarcela. I giochi sono finiti, però lasciamo aperta una piccola finestra di speranza che mi porta a pensare positivo affinché tutto si risolva. Grazie. 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 Grazie.